Ciao a tutti, 7 principi da vivere per una vita felice e di successo, video motivazionale. In questo video voglio spiegarti come vivere 7 principi che ti portano ad avere una vita felice e di successo, ma devi farlo però. Prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che se arriviamo al quorum di iscritti a fine giugno farò un seminario gratuito sulla seduzione, per cui iscriviti e fai iscrivere i tuoi amici girando il link di questo video ai tuoi amici nei vari social. E inoltre ti ricordo che se hai bisogno di risposte precise alle tue domande, devi andare sulla home page, tastino abbonati, ti abboni al canale e farò delle live mirate per gli abbonati, dove darò in diretta risposta alle loro domande in diretta. Bene, veniamo ai 7 principi da vivere per una vita felice e di successo, video motivazionale. Allora, il primo è importantissimo stabilire le tue priorità, che siano obiettivi di valore. Noi non ci stressiamo perché abbiamo tante cose da fare, anzi, se riusciamo a fare le cose importanti per noi siamo felici. Non è l'essere umano che si stressa dall'avere tante cose da fare, ma lo stress è non riuscire a fare quello che dobbiamo fare, quello che è importante fare, per cui è importante darsi delle priorità. E siccome gli eventi poi ci sono persone che restano ferme e poi vivono stati di forte stress, perché ci sono un asse cartesiano dove c'è l'importanza e l'urgenza, ci sono delle cose importanti ed urgenti, e se tu ti trovi sempre in urgenza a fare delle cose che sono importanti e vitali, resti fregato perché vivrai in continuo stress e questo stress ti porterà di fatto, chi ti piace o chi non ti piaccia, ad essere infelice. Questo è importante. E allora devi fare le cose importanti prima, quando non sono ancora urgenti. Allora se fai le cose importanti quando non sono ancora urgenti, le fai con soddisfazione, con calma, metti il meglio di te e le fai bene. Perché il problema è quando si trovi con urgenza a fare cose importanti. Certo può capitare una volta, ma alla lunga ti genera uno stress pazzesco e le cose fatte con urgenza non vengono bene di solito. Quindi non lasciare che le cose importanti divengano urgenti. Inizia a fare le cose importanti quando ancora non sono urgenti. Questo è il primo segreto che devi tenere presente. E quindi devi stabilire delle priorità importanti. Poi ci sono cose urgenti e non importanti. Queste lasciarle da parte. Puoi anche non farle. Nessuno muore se fai delle cose urgenti ma non importanti. Se non sono importanti le farai se ti riesci, altrimenti non le farai. E non dedicare tempo a cose non importanti e non urgenti. Ci sono persone che dedicano tempo a cose non importanti e non urgenti e perdono tempo e fanno diventare le cose veramente importanti e le fanno diventare urgenti. Invece il tuo obiettivo è di evitare che le cose importanti divengano urgenti se vuoi essere felice. Risolvile prima e allora potrai sviluppare veramente la creatività. Potrai sviluppare veramente una positività. Altra cosa, secondo punto, crea delle interdipendenze positive. Cioè interagisci positivamente con le persone. Cosa vuol dire questo? Che devi imparare a creare... Noi siamo in interconnessione con tutti. Crea delle connessioni positive con le persone. Quindi rapportati in modo positivo con le persone, non rapportati in modo negativo. Dai fiducia fin tanto che la meritano. Ma, come dire, devi avere un approccio ottimistico e positivo con le persone. Altrimenti tirerai persone triste e pessimiste. E invece, se vuoi essere felice, devi attrarre persone ottimiste e felici. Questa è la cosa importantissima che devi imparare a fare. È veramente importante. Poi, un'altra cosa molto importante, se tu vuoi essere felice, è non... e vuoi avere successo, non devi stare nella tua zona di comfort. Se fai sempre le solite cose, vivrai una vita piatta, una vita emotivamente poco significativa. Se tu vuoi essere veramente felice, devi uscire fuori dalla tua zona di comfort. Devi fare delle cose nuove. Devi fare delle cose che ti possano portare... Dei benefici. Devi fare ciò che è veramente importante per te. E uscire fuori dalla zona di comfort vuol dire correre anche dei rischi. D'altra parte, la vita è correre anche dei rischi. Non è semplicemente rimanere legati a situazioni piatte, a situazioni che non ti portano da nessuna parte. La vita è anche correre dei rischi. La vita è assumersi delle responsabilità. Questa è la vita. E quindi non avere paura di uscire dalla zona di comfort. Non avere paura di uscire dalla zona di comfort. Perché poi c'è il quarto punto. Se perdi, perché sei uscito fuori dalla zona di comfort e puoi rischiare, non devi perdere la lezione. Deve essere un insegnamento. Questo deve essere un insegnamento. E te lo insegna molto bene Edison, che ha fallito, per così dire, mille volte prima di diventare la lampadina. Ma alla fine c'è riuscito. Michael Jordan, famoso giocatore di basket, ha una sua frase molto bella in cui elenca tutti gli insuccessi che ha avuto. Ma proprio perché ha avuto tanti insuccessi, è riuscito a fare delle cose straordinarie. Ed è stato, è diventato il più grande. Questo vale in tutti i campi. Il più grande venditore è quello che ha preso più un no. Perché se ha preso più un no vuol dire che ha continuato. Se tu prendi un no e smetti, quindi quando perdi non perde la lezione e impara, impara dai tuoi errori, che diventeranno una fonte di prezioso insegnamento. E poi c'è il quinto punto che ti serve, è imparare a gestire le tue emozioni. Noi dobbiamo diventare gli artefici della nostra vita emozionale. Dobbiamo imparare a somministrarci delle emozioni. Dobbiamo imparare a darci delle emozioni. Dobbiamo imparare veramente a darci delle emozioni, veramente a somministrarci, veramente a essere, per così dire, pronti, predisposti ad avere una vita emotiva significativa. Una vita emotiva importante. Non dobbiamo, diciamo, rimanere legati a gente che ci somministra emozioni e noi le subiamo, oppure nutrirci di emozioni negative. Ma siamo noi che dobbiamo attivamente darci delle emozioni. soltanto in questo modo riusciremo a, come dire, a essere padroni in casa nostra. Altrimenti saranno padroni gli altri in casa nostra, se non riusciamo a darci emozioni. E questo devi tenerlo presente, un fatto veramente fondamentale. Sesto punto, molto importante, devi imparare a gestire una comunicazione integrale con gli altri. Cioè, devi creare etos, cioè essere credibile. La credibilità è importante. Quindi, creati una tua credibilità. Creati una tua credibilità. Devi diventare credibile. Devi avere dei valori e portarli avanti. Devi dimostrare coerenza. Coerenza con te stesso. Alla lunga, la coerenza premia. Alla lunga, la coerenza ci dà forza. Soltanto alla lunga, però. Magari all'inizio può essere più difficile, può essere più difficoltoso, ma la lunga, la coerenza ci premia. E ci dà possibilità. Quindi questo è importante. Quindi, l'ethos, l'etica, la credibilità, devi creare tutti i giorni. Poi impara a trasferire pathos. Quando parli con le altre persone, devi dare emozioni. Amplifica gli turbamenti che hanno dentro. Gli darai un'emozione che non possono... Diventerai significativo per queste persone. E poi, l'altra cosa, mantieni anche, è come dire, che ci siano anche contenuti. Non vendere fumo. Perché chi vende fumo, muore bruciato, come l'arrosto, diciamo così. Quindi metti anche logos, logic. E l'ultimo punto, fondamentale, è quello che adesso andremo a vedere. Prima però ti chiedo ancora di iscriverti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco. Ti ricordo che se raggiungiamo un numero di iscritti giusto, a fine giugno farò un seminario gratuito sulla seduzione. Quindi, se vuoi, se ti fa piacere, ovviamente diffondi questo video tra i tuoi amici per incrementare più rapidamente il numero di iscritti. E poi ti ricordo un'altra cosa, che se hai bisogno invece di risposte precise alle tue domande, devi abbonarti, puoi abbonarti al canale. e abbonandoti al canale avrai la possibilità di avere risposte precise alle tue domande in live mirate solo per abbonati. Il settimo punto è fondamentale, è quello che ci consente di vivere in armonia con gli stessi e con gli altri, quello di creare empatia, di metterci un po' nei panni degli altri, di non voler... di metterci una logica win-win, entrambi vincenti, non io vin che tu perdi. Se viviamo la vita come fosse una battaglia, se viviamo la vita come fosse un qualcosa in cui dobbiamo scontrarci quotidianamente, alla fine perdiamo. Dobbiamo veramente imparare, imparare a vivere una vita che sia positiva, a imparare a vivere una vita che sia armoniosa, veramente in armonia con gli stessi, con gli altri, con tutto quello che ci circonda. Ecco, se riuscirai a fare questo, avrai la possibilità di vivere, se viverai questi sette principi, avrai una vita felice di successo. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao! Ciao!